Musica Al via da stasera la zona traffico limitato nel centro storico di Sciacca inizialmente sarà in vigore solo nel fine settimana, poi dal 21 luglio al 31 agosto tutti i giorni recuperati 200 posti auto in centro nel viale delle Terme. Piano triennale delle opere pubbliche approvato all'Aggiunta e all'Ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, lo illustra al nostro Tg, l'assessore Gianluca Fisco, si punta su viabilità, parcheggi e riqualificazione. Consiglio Comunale sempre più protagonista, Ignazio Messina ha riunito alla conferenza dei presidenti delle commissioni, obiettivo fare il punto sui grandi temi della città di Sciacca, ma soprattutto formulare proposte. Allarme crack tra i giovanissimi in provincia di Agrigento, lo ha lanciato il questore Emanuele Ricifari, ospite ieri di San Marco Restarte insieme al medico del CERT Paolo Falco. Famiglie e scuole hanno detto disattente sul fenomeno. Cultura oggi e domani al complesso della Badia Grande, le ultime due serate della quattordicesima edizione del Letteranno in Fest, oltre agli ospiti anche un'anteprima della prossima edizione dello Sciacca Comics. Tutela dell'ambiente, nuova iniziativa Plastic Free, domani pomeriggio a Sciacca i volontari si ritroveranno nella spiaggia della località Foggia per raccogliere rifiuti e svolgere attività di sensibilizzazione contro l'uso della plastica. Benvenuti su RMK, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Al via oggi la zona traffico limitato nel centro storico di Sciacca, che inizialmente sarà in vigore solo nel fine settimana e poi dal 21 luglio al 31 agosto tutti i giorni. E oggi l'amministrazione ha annunciato che sono stati recuperati circa 200 posti auto in centro. Si potrà parcheggiare nel viale delle Terme. I dettagli in questo servizio di Maria Genuardi. Al via oggi la zona traffico limitato nel centro storico di Sciacca la rientra è stata quella nota da anni che comprende il corso Vittoria Emanuele e la via Giuseppe Licata. Arterie che rimarranno chiusa al transito veicolare dalle ore 19 all'1 oggi e domani e poi venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio. In questa prima fase infatti il centro storico di Sciacca sarà Isola Pedonale solo nel fine settimana. A partire dal 29 luglio fino al 31 agosto invece la chiusura al transito veicolare sarà in vigore tutti i giorni e dalle ore 19 fino alle 2. A settembre la ZTL tornerà ad essere attiva soltanto il fine settimana, venerdì, sabato e domenica e nuovamente dalle ore 19 all'1. Per tutto il periodo di chiusura del centro storico è previsto il divieto di sosta a partire dalle 18.45 nella via Licata, tratto intersezione con la via Molinari con incrocio via Roma. Il divieto di transito nella zona traffico limitato è previsto per tutti i veicoli fatti eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia, per i mezzi di trasporto pubblico e veicoli al servizio dei cittadini diversamente abili, consentito l'accesso ai residenti muniti di apposito pass. La ZTL viene attivata senza l'ausilio dei due varchi elettronici già da tempo collocati ma ancora inutilizzabili, dunque transenne e agenti della Polizia Municipale a controllare e impedire l'accesso all'area pedonale ai non autorizzati. L'ordinanza della ZTL è stata approvata giovedì scorso e fa seguito alla decisione assunta la scorsa settimana di chiudere in maniera permanente la via Roma. Nel giorno in cui scatta la zona traffico limitato, intanto l'amministrazione comunale ha ufficializzato la decisione di togliere i divieti di sosta nel piazzale Angiola Bisso e nel viale delle Terme. Provvedimento assunta a seguito di un sopralluogo del sindaco Termine, degli assessori Gulotta e Patti e del comando della Polizia Municipale. Si recuperano così circa 200 posti auto al servizio del centro storico che rimarrà interdetto al transito veicolare in un'area che consente in meno di 5 minuti di arrivare in corso Vittoria Emanuele o via Licata. Nei prossimi giorni si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale nel viale delle Terme e nel piazzale Abisso per facilitare l'individuazione dei posti auto. Sarebbe auspicabile anche una sistemazione dell'area di parcheggio a ridosso del Teatro Samonà che versa in condizioni indecenti. Piano triennale delle opere pubbliche. L'aggiunta Termine ha approvato il documento che è già all'esame delle competenti commissioni consigliari ed è inserito all'ordine del giorno della seduta in programma lunedì 17 luglio. Si punta su viabilità, parcheggio e interventi di riqualificazione. L'assessore ai lavori pubblici Gianluca Fisco anticipa al nostro telegiornale le opere inserite nel piano. Ascoltiamo. È il primo piano triennale dell'aggiunta guidata da Fabio Termine. Il documento contenente le opere sulle quali l'amministrazione comunale intende puntare è attualmente al vaglio delle competenti commissioni consigliari ed è stato inserito all'ordine del giorno della seduta in programma lunedì 17 luglio. E l'assessore ai lavori pubblici a illustrare per sommi capi i contenuti del piano triennale si punta su viabilità, parcheggio e interventi di riqualificazione. Ci sono alcuni interventi di manutenzione straordinaria e chiamiamola anche di nuove progettazioni stradali, in particolare le due zone est ed ovest della città. Per quanto riguarda la zona est, mi riferisco alla zona Bagni-Bosco-Pierderici. Lì sono state eseguite delle progettazioni sul Bosco-Pierderici, cioè dalla zona di Sant'Agostino, quindi via Emilia-Ravasio, c'è un gruppo di strade, sono quattro viabilità, che potranno collegare questa zona con la zona del Salvo Cuore, con la zona di Contrade Sabella e con la zona della 115, per intenderci via del pellegrinaggio. Queste sono delle importanti arterie che potranno dare molto più respiro alla via Ghezzi. Noi l'abbiamo visto nel recente passato, quando il torrente Bagni ha causato quel problema e la chiusura del ponticello. Questo permetterebbe di avere una seconda viabilità per Contrade Sabella, quello che ha dato delle grosse difficoltà di viabilità. Poi c'è la zona ovest, in particolare la zona di Via Ovidio, per intenderci la vecchia Regia Trazzera, è una viabilità che da Via Ovidio potrebbe confluire sulla zona di Corso Miraia, ma soprattutto sulla zona del Ponte Canzalamone. Cioè da Via Ovidio una viabilità che possa permettere il transito e andare direttamente in Contrada Foggia, Contrada Bellante, per intenderci. Senta, opere importanti, attese da anni, però il problema è sempre quello dei finanziamenti. Sì, chiaramente noi e anche questi incontri degli ultimi giorni sono importanti proprio perché nella programmazione che noi abbiamo messo di queste viabilità ci aspettiamo qualche finanziamento sulla viabilità, cosa che il PNRR ad oggi non ha dato grosse chance. In più noi stiamo partecipando anche al cosiddetto SIRU, che è questo complesso di comuni che da Sciacca vanno ad Alcamo, Partinico, dove potremo puntare oltre alle viabilità anche alla mobilità sostenibile. E a quello io mi riferisco soprattutto alla pista ciclabile. E' ferma convinzione di questa amministrazione puntare sulla pista ciclabile e quantomeno fare degli stralci. Un esempio dalla zona Foggia alla zona termale e dalla zona termale agli alberghi di aereoviaggi, di Mangias. Passiamo ad un'altra questione fondamentale, quella dei parcheggi. Quali sono le nuove opere previste? Quante di queste possono sperare di essere finanziate o sono già finanziate? Sui parcheggi noi abbiamo puntato soprattutto in questo momento sulla zona est della città. Abbiamo inserito nel piano triennale il parcheggio cosiddetto Figuli, che è previsto dal PRG, che è all'interno, si può dire, nel Parco delle Terme. In più stiamo lavorando, e probabilmente a breve arriverà anche in Consiglio Comunale, il parcheggio cosiddetto Carrozza, che è un parcheggio che abbiamo già pensato di mettere nel piano triennale, però l'attuale conformazione urbanistica non permette il parcheggio, ma è una zona agricola. Quindi porteremo in Consiglio la variazione urbanistica. Questo parcheggio darebbe ampio respiro anche da quella parte, perché, come abbiamo già visto, anche la situazione degli autobus dalla zona est della città, non c'è una stazione degli autobus. Quindi vorremmo fare un parcheggio che possa permettere anche, non solo il parcheggio delle auto, ma anche degli autobus. Tra le opere inserite, anche lo Stadio Alternativo e i Capannoni per il Carnevale, a seguito dell'intervenuto finanziamento regionale. Se il finanziamento regionale di 850 mila euro arriverà entro l'anno, si punterà a realizzare, con parte del mutuo previsto anche dall'amministrazione, sei capannoni nell'area dell'ex galoppatoio. Nel piano triennale è stato comunque inserito anche il progetto ben più ambizioso dei capannoni. Ci sono poi altre opere, persino delle passerelle pedonali da Via Glenda a Via Lido, con la realizzazione di 180 posti auto e chi più ne ha più ne metta, per quello che solitamente viene definito il libro dei sogni. L'aggiunta termine, peraltro, dovrà fare conti con il Consiglio Comunale, dove non ha una maggioranza. Centro Commerciale di Contrada Tabasi e il Presidente della Commissione Consigliare Attività Produttive, Raimondo Bruculeri, a spiegare le motivazioni per le quali ieri è stato chiesto l'accesso agli atti, ma soprattutto sono stati posti una serie di chiarimenti al commissario ad acta che sta seguendo e approvando la procedura. C'è il servizio. Raimondo Bruculeri, ieri la Commissione da lei presieduta ha chiesto l'accesso agli atti su quello che è stato tutto l'iter, l'interlocuzione che c'è stata tra gli uffici e le amministrazioni, poi l'amministrazione Valenti prima, la giunta termina adesso, ma soprattutto ha posto una serie di chiarimenti al commissario, cioè alla persona, che è stata incaricata sostanzialmente di seguire tutto l'iter che poi porterà all'approvazione o meno di questo progetto. Per quale motivo voi avete assunto questa iniziativa? Abbiamo assunto l'iniziativa perché è sempre curioso, tutto l'itere procedimentale della vicenda. Sempre curioso pure tutto ciò che ha fatto il commissario, che secondo il nostro avviso meritano chiarimenti da parte e così, infatti chiarimenti sono stati mandati anche per questo, perché la norma prevede in sostanza alcuni passaggi, quelli che dovevano essere fatti dal dirigente che non sono stati fatti e che comunque dovevano essere fatti dal commissario in sostituzione del dirigente, che era quello della convocazione alla conferenza di programmazione, che diventa indispensabile. Come diventava indispensabile capire la capacità economica e finanziaria anche dell'azienda e le rifluenze che ne potevano avere anche sulla città. Questi passaggi non sono stati fatti, in fretta e in furia è stata adottata la delibera in cui vengono annullate le prescrizioni esecutive precedentemente adottate, vengono ampliate rispetto alla richiesta fatta dalla ditta, ci ritroviamo con una delibera già adottata, esecutiva in sostanza, che per l'attuazione manca soltanto l'altro aspetto fondamentale che è quello del piano commerciale che ne determina poi l'attuazione definitiva. Quello che voi evidenziate è che tutto ciò sta avvenendo senza il coinvolgimento della città, che sia il Consiglio Comunale sia anche il comparto commerciale, cioè al di là della condivisione o meno del progetto di questo centro commerciale. La cosa grave è questo, perché poi tutto è stato silente, è passato sotto traccia, in cui il Consiglio Comunale non è stato nemmeno informato e tutto l'ital procedimentale antecedente, lo viene a sapere nel mese di giugno quasi all'atto in cui viene nominato il commissario e nel giro di 20 giorni adotta l'atto. Se poi dietro, come qualcuno dice, io però non voglio crederci che possa essere così, però sarebbe grave che ci possa essere all'interno di questo progetto qua anche un noto politico nostro, Saccense, lo escludo perché ritengo che sarebbe molto grave, che avrebbe maggiori dubbi rispetto al progetto stesso, che io non metto in discussione il progetto, io capisco soltanto una cosa, che c'è un momento in cui un investimento del genere va condiviso con la città, bisogna capire le rifluenze che la città ne può avere, può essere fatto sicuramente, non dico non l'escludo, ma come è stato fatto onestamente, nei dubbi ce l'ho. Ma per come è andata la vicenda, dal punto di vista dell'iter procedurale, ricorso al Tare, il pronunciamento e tutto, diciamo che a questo punto si può fare ben poco. Io guardo, non lo so se sono scaduti i termini, in sostanza, perché tutto noi abbiamo basato, il Comune ha basato su un giudizio da parte fatto dall'avvocatura del Comune, che non può essere tuttologo e conoscenza di tutto, su una materia molto specifica, molto delicata, che è l'urbanistica. Dove essere chiesto un chiarimento a un avvocato, a dare l'intero l'incarico, a un avvocato che si occupava di un'urbanista, per vedere, in sostanza, se tutto l'iter è stato regolare, e se eventualmente ci sono i prosupposti di legge, eventualmente impugnare alla CGA. Senta, a voi vi aspettate una risposta da parte del commissario a queste richieste di chiarimenti, quantomeno per avere contezza di tutto? Quando è stato invitato, abbiamo fatto l'incontro la settimana scorsa, è stato invitato pure lui, ci ha risposto che si sarebbe reso disponibile eventualmente a non incontrare le parti sociali, ma a dare anche delle risposte rispetto a determinati inquisiti che noi avremmo posto al commissario. Quindi mi auguro che sia conseguenziale. Allarme crack tra i giovanissimi in provincia di Agrigento a illustrare la diffusione capillare del fenomeno e le conseguenze che provoca sono stati ieri a Sciacca, il questore di Agrigento Emanuele Ricifari e il responsabile del CERT di Ribera, Paolo Falco, nel corso di San Marco Restart. Fenomeno trascurato dalle famiglie, scuole e cittadini che si lamentano di più della movida sotto casa, ha dichiarato il capo della polizia in provincia. E allarme crack tra i giovanissimi anche in provincia di Agrigento ad illustrare la diffusione capillare del fenomeno e le conseguenze che provoca. Sono stati ieri a Sciacca il questore di Agrigento Emanuele Ricifari e il responsabile del CERT di Ribera, Paolo Falco, nel corso di San Marco Restart, lo spazio settimanale di approfondimento organizzato a Sciacca dal Comitato Provinciale Asi, condotto dal giornalista Giuseppe Recca e che si tiene nella struttura turistica Bonovacanze. Il medico Paolo Falco ha descritto i pericoli che tra gli adolescenti crea lo stupefacente a base di cocaina, bicarbonato o ammoniaca, un mix che ha effetti irreversibili su corpo e mente. Se una volta la cocaina circolava soprattutto nei ceti abbienti, il crack adesso sta interessando tutti i ceti sociali. Per il questore la diffusione del crack è oggi l'emergenza più grande, più di quella economica. Questa droga gira nelle scuole, non più nelle discoteche, mentre i canali di rifornimento sono quelli tradizionali. È semplicemente una filiera commerciale già radicata e esistente che trova nuove forme e nuovi posti dove commerciare, è come se aprisse sempre nuove filiali, ma l'approvvigionatore principale rimane quello e i distributori locali rimangono quelli. Quindi anche qui sono sempre le stesse persone. Le organizzazioni hanno avuto qualche problema e hanno tuttora dei problemi perché i colpi dati alle organizzazioni criminali, in particolare a Cosa Nostra e Stigda, dalle nostre parti, sono stati molto forti. I grandi capi non esistono più, ma questo non significa che non esista il fenomeno, anzi, si inabissa e diventa ancora più difficile da contrastare. Peraltro si incontra adesso tanta manovalanza a basso costo. I gruppi nigeriani, i gruppi marocchini, i tunisini, i margrebbini in generale, che curano la distribuzione, quella che una volta quando circolava l'eroina chiamavamo i cavallini, quelli che facevano la distribuzione porta a porta, adesso sono questi soggetti che non la fanno porta a porta, ma lo fanno nelle cosiddette piazze di spaccio. La realtà è che le piazze di spaccio, ecco qua nell'agrigentino fatta eccezione di Licata, effettive, e forse un po' di canigattì, effettive piazze di spaccio, non ce ne sono, ma c'è un fenomeno di distribuzione estremamente capillare e che è curato dagli stessi tossicodipendenti. Il medico del CERT Paolo Falco ha parlato dei gravissimi effetti sulla salute. Il problema è che il crack è peggio della cocaina, da una dipendenza peggiore, da una dipendenza ancora più forte, ma la cosa drammatica è che noi che lavoriamo in questo settore non abbiamo armi per poter combattere questo fenomeno. Il messaggio finale è stato rivolto alla società a tutti i livelli. Oggi è necessario mettere il problema al centro delle famiglie, della scuola e dell'agenda politica di tutti i partiti. Il questore Ricifari e il dottore Falco hanno sottolineato, come sia fondamentale, che la società tutta non si giri dall'altra parte quando si parla di giovani e droga. Bisogna guardare con preoccupazione all'incremento del fenomeno e rafforzare gli organismi e gli strumenti deputati a combatterlo. Il fenomeno c'è, esiste, è sempre più presente e aumenterà sempre di più. E saranno sempre di più i giovani coinvolti. Perché così come è successo con l'alcol, che oggi l'alcol è una cosa normalissima. Tutti i ragazzi il sabato si bevono 3, 4, 5 birre per giunta doppio malto, non la birretta normale. La stessa cosa succederà con queste sostanze, la stessa cosa succederà con il crack, la stessa cosa è successa e continuerà a succedere con la cocaina che per giunta si porta dietro l'alone della droga dei ricchi. Quindi viene fuori. Fa sentire arrivato. Esatto, ti fa sentire proprio arrivato. E quindi dobbiamo prestare più attenzione ai nostri ragazzi. La politica deve prestare più attenzione. La sanità si deve interessare sempre di più di questo fenomeno, dando anche maggiori forze a quelli che sono i centri che affrontano questa problematica tutti i giorni. È stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di tentato omicidio il 17enne che nei giorni scorsi avrebbe accoltellato un giovane di 22 anni di Licata alla spalla e all'addome al culmine di una lite. L'aggressione è venuta nei pressi di un lido balneare incontrata a Mollarella. Il minorenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato e denunciato dai poliziotti del locale commissariato. Il coltello utilizzato è stato sequestrato. Le condizioni del 22enne Licatese, colpito due volte con arma da taglio, sono critiche. Si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla Milza. Non sono ancora chiari i motivi della discussione, sfociata poi nel sangue. Sono 230 i migranti che sono sbarcati durante la notte a Lampedusa, dopo che i sei barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi in area SAR dalle motovedette della Guardia Costiera. In 24 ore, ieri sull'isola, ci sono stati 17 approdi, con un totale di 750 persone. Sui natanti soccorsi c'erano da 16 ad un massimo di 48 persone originarie di Siria, Sudan, Yemen, Gambia, Senegal, Ghana, Guinea e Burkina Faso. Tutti hanno riferito di essere salpati dalla Tunisia. All'alba, dopo che anche 230 nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, nella struttura c'erano 1.557 ospiti. Questa mattina, su disposizione della prefettura di Agrigento, la polizia ha ascoltato fino al porto 80 migranti imbarcati sul traghetto che giungerà in serata a Porto Empedocle. 16 dei migranti, tutti tunisini, hanno raccontato di essersi persi durante la traversata. Con un'imbarcazione in vetroresina di 6 metri, gli uomini hanno riferito di essere partiti a luna di mercoledì scorso alla spiaggia di Kasma, in Tunisia, e di avere navigato a lungo senza sapere verso quali coordinate dirigersi. Ad agganciare il barchino in acque territoriali italiane è stata ieri sera la motovedetta della Guardia di Finanza. Lo sbarco a Molo Favarolo è avvenuto poco meno di tre ore dopo il soccorso. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno arrestato un uomo di 45 anni del luogo con precedenti di polizia per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentanti dalla persona offesa. L'uomo il 28 giugno scorso era stato sorpreso in flagranza, mentre in evidente stato di alterazione psicofisica minacciava la compagna, cercando di aggredirla fisicamente. In quella circostanza il tempestivo intervento dei carabinieri, a seguito della chiamata della vittima, ha consentito di bloccare ogni ulteriore violenza. D'urgenza è stato notificato al 45enne un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, contestuale di vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Nella stessa giornata, dopo poche ore, l'uomo è stato sorpreso all'interno dell'abitazione dove la compagna risiede e da dove poco prima si era allontanato, violando così il provvedimento del giudice, venendo per tale motivo arrestato. Ieri, a seguito di segnalazione pervenuta presso la centrale operativa, i carabinieri di Mazzara lo hanno nuovamente arrestato, in quanto trovato sotto la casa della compagna in palese violazione del provvedimento. Improvvisa chiusura al transito veicolare di Viale della Vittoria, lo scorso 5 luglio a Sciacca, senza alcuna comunicazione ai cittadini. La vicenda è al centro di un'interrogazione presentata dall'amministrazione dai consiglieri comunali Filippo Bellanca e Pasquale Bentivegne, quali chiedono di sapere il motivo di tale chiusura, posto che l'unica certezza era una scritta collocata insieme al cartello di divieto indicante lavori Enel. Il motivo della mancata comunicazione preventiva ai cittadini, chi è responsabile dei lavori di privati nelle strade di competenza comunale, visto che i cantieri aprono all'improvviso senza nessuna preventiva organizzazione e comunicazione, se il Comune dispone di una programmazione che riguarda i lavori di servizi a rete, se conosce i tempi reali di ognuno di questi interventi, se infine non si ritiene necessario verificare se i lavori dopo la chiusura del cantiere siano fatti a regola d'arte. Apriamo l'ampia pagina dedicata alla cultura. Irene Chias, Beniamino Biondi, Accurso e Sabella sono stati alcuni degli ospiti che hanno arricchito il programma della seconda giornata del letterando in fest. Particolare risalto è stata data alla figura dell'intellettuale Aldo Braibanti, a cui è stata rivolta la presentazione di un libro e la proiezione del film, a lui dedicato dal regista Gianni Amelio. Vediamo. Ancora incontri, libri e cinema ieri alla Badia Grande di Sciacca per la seconda giornata del letterando in fest La Forma del Mare, festival giunto alla sua quattordicesima edizione. L'articolato programma ha incuriosito come sempre gli appassionati. Il primo appuntamento è stato quello con Il Sicario di Vito lo Scrudato che ne ha parlato con Anna Maria Catalano. Nell'opera si percepisce come persino un sicario di lunga esperienza possa commettere errori di valutazione e di conseguenza dubitare della propria efficienza nelle esecuzioni delle condanne emesse da un misterioso tribunale. Spazio poi, ancora una volta, a Nati per leggere e alle volontarie che hanno declamato ai numerosi bambini presenti e alle loro famiglie alcune storie tratte da specifiche opere destinate ai più piccoli. A seguire è stata la volta degli ospiti più attesi della serata. Irene Chias, insieme a Marta Perego, ha parlato, prima presentazione in assoluto, del suo nuovo Rocche Sante. Ci tenevo particolarmente perché 13 anni fa, quindi la prima edizione, nel 2010, ho presentato qui Sonoate e Tiamo, quindi mi sembrava una bella conclusione del chiudere questo cerchio, anche perché in Rocche Sante c'è un personaggio di Sonoate e Tiamo che riappare, quindi mi sembrava una bella cosa. Tra l'altro qui ho presentato altri due dei miei cinque libri, cioè qui nell'ambito del letterando. Poi ho presentato un altro libro al di fuori del letterando, però sempre in questa cornice molto bella e suggestiva, quindi sono molto contenta. Molto interessante lo spazio destinato a Beniamino Biondi, che insieme a Sino Caracappa e ad Alice Titone ha raccontato al pubblico la vicenda umana e culturale di Aldo Braibanti, l'uomo delle formiche. L'uomo delle formiche è Aldo Braibanti, uno scrittore italiano condannato ad una sorta di eternità senza pubblico, la cui figura oggi comincia ad essere rivalorizzata grazie al film che poco tempo addietro è girato Gianni Amelio e che ripercorre le vicende umane, biografiche, legate a questo grande italiano, che è stato vittima di un processo assurdo per plagio, una delle pagine più grottesche del sistema giudiziario italiano, che ha avuto delle conseguenze non soltanto sull'uomo Braibanti, costringendola ad un forzato silenzio, ma anche sulle sue scelte letterarie, perché il suo nome è sostanzialmente scomparso dai panorami della letteratura italiana e la sua figura è caduta in una sorta di perenne oblio. In serata, infine, protagonista assoluto è stato il giornalista Saccense Accurso Sabella, che prima ha presentato l'ultima opera di Fabio Loverso, Il mare colore veleno, testo dedicato alla storia ignorata del petrolchimico di Siracusa. E poi, insieme a Silvio Schembri, ha parlato del suo dalla parte giusta, Laurana Editore. È un libro che ronzava in testa da molto tempo, da qualche anno in realtà, e alla fine è stato il prodotto di tante cose che ho visto, che ho raccontato anche nella mia professione di giornalista. Sono riuscito a trovare un po' più di tempo per stare a casa, complice il Covid inizialmente, quindi sono riuscito a gestire un po' meglio i tempi e quindi riaccelerare un po' la stesura. Insomma, adesso la bellezza di presentarlo, il piacere di presentarlo in giro, e di questo devo ringraziare anche la Laurana Editore, Lillo Carlisi, che ha voluto scommettere sul libro di un esordiente, che è sempre una scommessa non facile da vincere, quindi lo ringrazio per questo. La mia pubblicazione è Il mare colore veleno, che è un'indagine su uno dei più grandi disastri ambientali del paese. Quello è il disastro ambientale del nord di Siracusa, il litorale tra la città di Siracusa e quella di Augusta, che è completamente tapezzata da industrie, che è il polo petrolchimico, insomma, per dirla in modo giusto, in modo preciso. La medaglietta dei posti di lavoro copre tutto il resto? Vale per Siracusa o vale per Taranto? Quella sì, vale per Taranto, valeva per Porto Marghera. I posti di lavoro effettivamente sono un po' quello che poi, diciamo quella realtà sulla quale si fonda il ricatto occupazionale, che in quel posto lì, al polo petrolchimico di Siracusa, è espressa in questo modo, meglio morire di cancro che di fame, proprio perché in quel posto lì, come a Taranto e come a Porto Marghera, ma come a Gela, non allontaniamoci troppo dalla Sicilia, si è morto, cioè si muore tanto di cancro e ci sono stati troppi morti per questa malattia. A completare il quadro delle iniziative di ieri, la presentazione di Esther Rizzo, che insieme ad Aldorossi, ha discusso circa il suo ultimo 30 giorni e 100 lire, e la proiezione del film di Gianni Amelio, il signore delle formiche, dedicato proprio all'incredibile storia dell'intellettuale Aldo Braibanti. Oggi e domani le ultime due giornate dedicate al letteranno in fest, con ancora una volta numerosi incontri, libri e cinema. Oggi tra gli ospiti Franco Stelzer, Dario Voltolini e Evelina Sant'Angelo. Domani invece la chiusura con l'onorevole Lillo Pumili e Daniele Scalise. Oggi e domani anche una gustosa anteprima di quella che sarà la quarta edizione dello Sciacca Comics. Vediamo. Oggi e domenica le ultime due giornate delle letterando in fest, manifestazione a cura di Sino Caracappa e Paola Caridi. Alla Badia Grande, oltre ai libri, un'interessante vetrina e anteprima dedicata allo Sciacca Comics, manifestazione giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà a settembre. Oggi e domani sarà una o due giorni di incontri, interviste ai cosplayer e tante altre attrattive legate alla cultura comics. Oggi è prevista la presenza del duo fumettistico Tumasuke René, Accursio Todaro e Vincenzo Libari, mentre domenica i cosplayer del gruppo Animali Fantastici. L'anteprima dello Sciacca Comics è curata da Francesco Barbata, Liborio di Bongiovanni, Alfonso Di Leo, Eleonora Lacascia e Cristina Puleo. Oggi, alla Badia Grande, alle 19, Franco Stelzer, insieme a Dario Voltolini, presenta il suo stiratore di luce, Un viaggio dietro le quinte dell'editoria. Stesso orario per Filippo Landi, che converserà con Rossana Puccio sul nuovo Il tempo che rimane, iniziativa sottotitolata La vita, l'arte dell'incontro, le guerre. Alle ore 20, Giuseppe Barbera, insieme a Paola Caridi, parleranno di Agrumi e il giardino del Mediterraneo, una riflessione che riguarda il mar Mediterraneo e le terre che lo circondano. Alle 21 sarà la volta di Il sentimento del mare, di Evelina Sant'Angelo, presentata da Dario Voltolini, Storie di mare, di salvati, di sommersi, di lavoro ed invisibili. In chiusura, come sempre, un film. Stasera la proiezione di Il colibri, di Francesca Archibugi. E passiamo alla domenica, ultima giornata del Letterando in Fest. Domani, alle ore 19, uno spazio dedicato alle origini belicine della scrittrice Elsa Morante, ne parleranno Margherita Margo Cacioppo, Gabriella Ebano, Francesco Morante, Margherita Rimi, Margherita Ingoglia e Alice Titone. Domani, alle 20, uno dei momenti più attesi, ossia le riflessioni e i ricordi dell'onorevole Calogero Pumilia, che, conversando con il giornalista Gero Tedesco, parlerà del suo ultimo Minimi Pensieri, Navarra Editore. Sempre domenica, appuntamento con Daniele Scalise, autore di Un posto sotto questo cielo, il romanzo da cui il regista Marco Bellocchio ha preso spunto per il suo ultimo film intitolato Rapito. Scalise ne parlerà con Rossana Puccio. In serata, all'Arena Giardino, le riflessioni di Fausto Melluso, Gaspere Gerratano ed Eveline Sant'Angelo su sommersi e dimenticati, dal mare tra le montagne al mare come lapide, sul futuro e sull'estino del Mediterraneo. Sempre domenica, due eventi collaterali, Sciacca da mare con la piccola balena, workshop per adulti e giovani lettori, coordinato da Francesca Drogo e Gisella Mondino, e la presentazione di Sigonella, la guerra alle porte di casa, evento legato allo Sciacca Comics, con Antonio Mazzeo che ne parlerà insieme ad Anna Bucca. Domenica sarà il film Rapito di Marco Bellocchio, a chiudere il ciclo delle proiezioni cinematografiche. Sabato e domenica, insomma, ad ingresso libero, ce n'è ancora per tutti i gusti, per chiudere in bellezza questa edizione delle Letterande in Fest, nella consapevolezza che, come scriveva Cesare Pavese nel suo celeberrimo Il Mestiere di Vivere, la letteratura è una difesa contro le offese della vita. La Giunta regionale ha approvato la definitiva liquidazione di 10 delle vecchie aziende autonome soggiorno e turismo della Regione, inattive da decenni. Tra queste, l'azienda del turismo di Sciacca è agrigento. Come per le altre 10, già liquidate dalla Giunta lo scorso giugno, servirà un passaggio finale in assemblea regionale siciliana per chiudere l'Iter. Il taglio degli enti inutili, dichiarato il Presidente Schifani, rappresenta uno dei principali banchi di prova e su questo stiamo mantenendo gli impegni con un nuovo impulso al riordino dell'amministrazione regionale. La soppressione dell'azienda del turismo in Sicilia era stata decretata con legge regionale 15 del 2005, ma gli Iter di liquidazione si sono prolungati per anni senza alcuna utilità per la Regione. Iniziative di sensibilizzazione ambientale domani a Sciacca, il primo appuntamento con Plastic Free Onlus per il mese di luglio. I volontari si daranno appuntamento domenica pomeriggio presso la spiaggia della Foggia per rimuovere la plastica e spiegare l'importanza di non utilizzare plastiche monouso e imballaggi. Noi ce ne occupiamo in questo servizio. Primo evento Plastic Free Onlus di luglio a Sciacca. Dopo la tappa della settimana scorsa a Portopalo di Menfi. Tante le novità proposte dalla Onlus nelle territori seccense. Saranno tre le date previste nel mese di luglio. Durante questo mese Plastic Free collaborerà a livello nazionale con Radio 105 e con il regionale di Trenitalia. Si riparte dalla spiaggia della Foggia, dove l'anno scorso Plastic Free, riuscendo a riunire ben 23 associazioni, tra le quali la protezione civile e i subacquei di Sciacca Full Immersion, è riuscita in circa due ore a ridare dignità ad una spiaggia che era stata precedentemente distrutta dall'alluvione del 2021. Le immagini che state vedendo si riferiscono per l'appunto all'azione ambientale proposta lo scorso anno. Gli eventi Plastic Free mirano alla sensibilizzazione verso il problema della plastica attraverso azioni concrete, unendo tra di loro comunità che mirano ad un cambiamento nei comportamenti attraverso scelte sostenibili. Appuntamento domani, domenica 9 luglio, alle ore 17.30 alla spiaggia Foggia. Tutti i volontari potranno partecipare all'evento gratuitamente registrandosi sul sito di plasticfreeondus.it nella sezione eventi attrezzati di guanti, sacchetto e borraccia d'acqua in alluminio o acciaio. Per l'occasione verranno distribuiti ai primi 20 iscritti i gadget di Radio 105 Save the Sea e grazie alla donazione del Comitato Foggia con la Presidente Anna Macaluso i gadget di Plastic Free. Ci sarà inoltre anche una gara tra i più giovani, con in palio le borracce ufficiali di Plastic Free. Prevista domani, infine, anche la presenza dei volontari della Protezione Civile SST di Agrigento e di alcuni volontari della Croce Rossa Italiana di Agrigento. A coordinare le iniziative, il referente di Sciacca e di Menfi, Domenico Vernagallo. In attesa di celebrare nel 2025 l'ambito riconoscimento di capitale italiana della cultura, in questi giorni la città di Agrigento sta vivendo l'inedita esperienza di capitale della pittura antica che vede la partecipazione di oltre 70 specialisti della pittura parietale lenistica e romana. A lavoro giovani studenti di Bologna nel cantiere Scuola di Scavo e Restauro, organizzato dal Parco della Valle dei Templi in codirezione scientifica con l'Università di Bologna. Il contributo da Agrigento di Davide Sartre. Vediamo. Altre sensazionali scoperte archeologiche nella Valle dei Templi di Agrigento. Qui siamo all'interno del quartiere ellenistico romano, tra la città e i Templi, dove sono in corso gli scavi organizzati dal Parco Valle dei Templi. A lavoro giovani studenti di Bologna nel cantiere Scuola di Scavo e Restauro, delle pitture parietali nelle insulae Terzo e Quarto. In attesa di celebrare nel 2025 l'ambito traguardo di Capitale della Cultura, dal 6 all'8 luglio Agrigento vivrà la nuova esperienza di Capitale della Pittura Antica con la sesta edizione del Colloquio AIRPA, che vede la partecipazione di oltre 70 specialisti della pittura parietale ellenistica e romana. Lo scavo, infatti, sta portando in luce le pitture e i mosaici in crollo, riferibili agli ambienti di rappresentanza della casa che vive tra il II ed il I secolo a.C. Nel 2016 il Parco ha affidato all'Università di Bologna le ricerche e lo scavo di questo settore del quartiere ellenistico romano. Quindi stiamo lavorando su una casa che vive circa 600 anni e che ha una storia complessissima. È una casa che risale all'età arcaica e che vive per tutta l'età ellenistica fino all'età romana. Quali reperti sono venuti alla luce? Cosa avete trovato? Abbiamo trovato, innanzitutto, questa casa è completamente conservata. È una situazione straordinaria. Cose di questo tipo si trovano solo a Pompei, per dire una. Abbiamo trovato il crollo dei piani superiori, quindi pitture paritali, mosaici, pavimenti, tutti in crollo, straordinarie scoperte, insomma, ci attendono. Il progetto condiviso con l'Università di Bologna prevede attività di scavo e di restauro delle pitture antiche recuperate nell'ambito delle indagini nelle case del periodo ellenistico romano. Quindi siamo nell'antica Agrigentum. La particolarità è quella che il Parco della Valle dei Templi ha finanziato un cantiere scuola con delle borse di studio ai 20 giovani specialisti, ricercatori e studenti che hanno la possibilità di acquisire competenze spendibili nell'ambito degli studi sulla pittura parietale in un contesto sicuramente eccezionale, il contesto appunto delle domus agrigentine. Quindi il progetto ha un'ampia ricaduta anche di carattere sociale e formativo e il Parco della Valle dei Templi in questo modo conferma la sua vocazione di luogo di cultura nel senso vero del termine, cioè un luogo dove la cultura cresce e soprattutto fa crescere. Quali reperti sono venuti da luce? Cosa avete scoperto? So che sono scoperte sensazionali. Sicuramente sono sensazionali e sono sensazionali soprattutto ad Agrigento che non finisce mai di stupirci. Il tema della pittura antica è un tema nuovo che è proprio nato o sbocciato negli ultimi anni grazie proprio alla straordinaria scoperta di una casa non ancora indagata che ha restituito delle testimonianze straordinarie di pitture parietali che trovano confronti per esempio con gli esempi ben più noti delle città vesuviane, in particolare appunto Pompei. Sono case romane per eccellenza quindi appartengono proprio alla fase di Agrigentum che sta davvero tornando alla luce con tutto lo splendore dei suoi colori. Riaperto al pubblico dopo quasi vent'anni il cuore del Tempio Dorico di Segesta i visitatori possono accedere all'interno del maestoso edificio sacro che finora era stato possibile ammirare solo dall'esterno per motivi di sicurezza durante tutta la giornata e anche durante alcune aperture serali. All'interno del Tempio si troverà anche una delle installazioni di Elima di Gandolfo, Gabriele David, la mostra sarà visitabile fino al 19 maggio 2024. Ancora cultura domani sera alle 21, appuntamento musicale di grande valore artistico nel programma della rassegna Frammenti d'arte 2023 promossa dal Circolo di Cultura di Sciacca in Envicolo De Stefani, a pochi metri dalla piazza Scandaliato, il clarinettista Giovanni Mattagliano proporrà la sua produzione artistica in uno spettacolo dal titolo Acque Sonore. Giovanni Mattagliano si esibirà con le sue musiche mediterranee eseguite in tutto il mondo clarinettistico. La scaletta tra le altre cose propone Acra, una dedica al mondo africano e alle sue movenze creative. Luz, un brano dedicato al mondo cubano, in programma anche un omaggio al mondo arabo con una composizione dal titolo Caspa. Docente di clarinetto jazz e di musica etnica al Conservatorio di Palermo, Mattagliano propone una musica che si è sempre distinta per la scelta di organici variegati ed originali sviluppando l'intreccio acustico nella ricerca di ogni stile creativo. Ha tenuto circa 2.500 concerti in alcuni tra i principali teatri italiani con tournée all'estero in tutta Europa, America, Cina e Nordafrica. Un concerto che propone l'insieme tra il linguaggio poetico e quello musicale, commenta il direttore artistico della Rassegna, Corsio Cortese, in un'unità narrativa e metrica inscindibile. Adesso la rubrica, il libro del giorno. Non lo so se l'idea che i buchi neri finiscano la loro lunga vita trasformandosi in buchi bianchi sia giusta. E' il fenomeno che ho studiato in questi ultimi anni. Coinvolge la natura quantistica del tempo e dello spazio, la coesistenza di prospettive diverse e la ragione della differenza tra passato e futuro. Esplorare questa idea è un'avventura ancora in corso. Ve la racconto come in un bollettino dal fronte. Cosa sono esattamente i buchi neri? Che pullulano nell'universo? Cosa sono i buchi bianchi? I loro elusivi fratelli minori? E le domande che mi inseguono da sempre. Come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto? Perché vogliamo sempre andare a vedere un po' più in là? Buchi bianchi dentro l'orizzonte di Carlo Rovelli, edito a Delphi. E in chiusura abbiamo una notizia di sport e calcio. Anche Alessio Maniscalco, che compirà 21 anni il prossimo mese di agosto, farà parte della Rosa Unitas Sciacca nella stagione 23-24. Il giovane e forte difensore che lo scorso anno, dopo un'esperienza in Serie D ad Acireale, è tornato ad indossare la maglia della squadra della sua città e nel gruppo dei calciatori che il tecnico Lillo Bonfatto ha voluto confermare. Forte fisicamente e con qualità tecnica, che nelle ultime stagioni è riuscito ulteriormente ad affinare. Maniscalco è un difensore esterno moderno ed efficace, sia nelle marcature che nelle proiezioni offensive. La sua conferma arriva dopo quella dell'esperto difensore Girolamo Ciancimino e del centrocampista Charles King. È davvero tutto, noi ci fermiamo qui, non prima di avervi ringraziato e augurato un felice e sereno fine settimana. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti.